segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ciao buonasera sono qua per raccontarvi una storia questa sera è una storia che ha a che fare con le parole questa specie di aria colorata che ci esce dalle labbra e che tuttavia ha sempre delle conseguenze sempre perché parlare è sempre scegliere se parlare e come parlare e dovremmo anche ricordarci sempre che se l'igiene è la base della salute dei corpi così la scelta delle parole l'uso consapevole delle parole è la base nella salute diciamo dei rapporti delle relazioni anche delle relazioni con noi stessi perché anche con noi stessi dovremmo essere in grado di scegliere le parole bene tant'è anno 1904 l'italia decide di dotarsi di due transatlantici transatlantici di lusso che saranno fondamentali perché in quel momento dall'italia un sacco di persone ricchi poveri artisti partono per gli stati uniti d'america per andare a cercare chi fortuna più chi fortuna meno e soprattutto diverse declinazioni della fortuna c'è bisogno quindi che noi paese storicamente di armatori e di marinai costruiamo costruiamo due piroscafi e così facciamo ai cantieri di riva trigoso iniziano i lavori indefessamente mattina giorno notte con cicli continui con turni stancantissimi per creare queste navi in particolar modo un piroscafo un piroscafo di lusso il piroscafo di lusso più incredibile mai visto che è il principessa iolanda e piano piano la nave prende vita è gigantesca 146 metri di lunghezza due gigantesche eliche nella sala dei motori ci sono due motori come mai si sono visti e la nave è pronta è pronta per trasportare 300 persone di equipaggio 180 viaggeranno nabab in prima classe 150 in seconda e mille saranno coloro che fra i disperati italiani partono dall'italia verso gli stati uniti d'america per andare a non morire di fame bene gli armatori decidono che a quel punto questa specie di titanic che ancora non è nato perché il titanic ancora doveva nascere in inghilterra dovrà essere lanciato con un'operazione di marketing siamo nel 1904 ma è un marketing antelitteram e scelgono una campagna pubblicitaria un'agenzia pubblicitaria che farà manifesti reclam porterà alla stampa quel giorno in cui finalmente il principessa iolanda affronterà per la prima volta il mare 22 settembre 1904 immaginati dappertutto la sul molo ci sono autorità c'è l'orchestra c'è la banda c'è la proverbiale bottiglia di champagne che viene lanciata sullo scafo tutti quanti sono là a vedere a applaudire il grande principessa iolanda quando improvvisamente qualcuno dice ma mi sembra che si stia piegando un po su un lato ed è vero si sta piegando su un lato gli applausi piano piano scemano la banda smette di suonare ed ecco che così in mezzo alle persone qualcuno dice no è un bambino con la bandierina mamma ma per caso la nave va a fondo sì la nave va a fondo incredibilmente 22 settembre 1904 davanti agli occhi di tutti quanti il prodigio dell'ingegneria italiana se ne va a fondo là davanti agli occhi di tutti e questa storia ve la racconto perché si dice che quel giorno là sul molo ci fosse il responsabile della campagna pubblicitaria colui che per mesi aveva decantato il prodigio dell'ingegneria dei motori della tecnica e quell'uomo scappò non si vide più per anni lasciò soltanto un biglietto si dice ai suoi colleghi dicendo mi vergogno troppo ho promesso aria fritta così disse ho promesso aria fritta ecco siamo alla fine della campagna elettorale per l'ennesima volta sono cambiati nomi sigle facce promesse e una sola certezza c'è che comunque sia anche questa volta ci troveremo sono pronto a scommetterci con voi ci troveremo per l'ennesima volta con qualcuno che quando non potrà mantenere tutto ciò che ha promesso dirà che la colpa puntualmente o è dell'alleato o è della crisi o è dell'europa o è dei poteri forti o è di paperino mindi la banda passotti e peppa pig fatto sta che tutto questo speriamo non accada mentre la nave cola a picco grazie a tutti